Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Francesco Cherubini, che mi chiede di parlare del film del 1985 di Mark Lester, Commando, con Arnold Schwarzenegger. A Commando di Schwarzenegger è un film muscolare, classico, un campione di incassi, che ha dalla sua qualche scena interessante, soprattutto Mark Lester, al di là di tutto, era comunque un mestierante di buon livello, sapeva girare molto bene le scene d'azione, aveva un bel montaggio, l'utilizzo della colonna sonora è niente male, certo, la sceneggiatura è un po' così, un po' assolutamente campata per aria, così come la storia alla cazzo di cane, però il film ha delle cose interessanti, la prima è che non si prende quasi per nulla sul serio, e questo riesce a renderlo un po' più credibile, certo, per i miei gusti, insomma, non è proprio il cinema che io preferisco, poi Commando, però va detto che Commando, Codice Magnus, un'altra roba di Schwarzenegger, aveva perlomeno l'idea di non essere reazionare, di essere semplicemente un cinema muscolare, fatto così, ma per divertirsi più o meno. La storia appunto è di questo Jason Matrix, che era praticamente un grandissimo militare, che aveva appunto la sua squadra, che si decide di andarsene, praticamente ritirarsi da ogni tipo di lotta, e va a vivere in mezzo a nulla con la figlioletta, di dieci anni. Cosa succede però? Incominciano a ammazzare tutti quelli che erano appunto della squadra di Matrix, mettono lui sotto sorveglianza, sorveglianti muoiano, ne rapiscono la figliola, e lui praticamente decide di partire con l'aiuto di Cindy, questa ragazza di colore che fa l'hostess, che si trova lì nel mezzo, di andare insomma a cercare di trovare la figliola, e poi via di scena, tutto velo e successe. Allora, il film ha una trama talmente basilare che la cosa divertente sono le scene d'azione, ed alcune sono anche ganze, va detto, alcune scene sono ridiole, e ci sono dei momenti in cui si riesce a entrare e starci dentro una storia così debole e abbastanza idiota. Certo, il film non inizia nel migliore dei modi, lui con la bimbetta che danno da mangiare a bambi, bucolica per la scena, sembra veramente Heidi, e fa cascare subito le braccia a ripartenza. Poi qualche battuta lì col dialogo un po' anche sessista, un po' razzista, di Schwarzenegger verso gli uomisessuali, con Boi Giorgi di mezzo, che lascia veramente il tempo che trova, e poi finalmente il film fortunatamente inizia, e iniziano insomma le scene d'azione, che sono la cosa principale di un film, che ha pochissimo da dire, ma che è assolutamente un cult per tutti. Ripeto, io Schwarzenegger lo trovo di pietra, e anche lui praticamente resita come un gommone, però d'altronde era il suo periodo. E nel complesso, comunque per essere un film muscolare, ripeto, perlomeno ci lascia con una sensazione di aver visto qualcosa di divertito e divertente in un certo senso. Sicuramente però, a livello soggettivo, mi fa due palle tanto, sia da ragazzino potevo anche divertirmici e tutto, riguardandolo adesso, il film è invecchiato molto male. Ma è un film, insomma, che ripeto, ha delle momenti che sono talmente trash che non ci si crede, delle buone scene d'azione, e che per il sottoscritto però rimane comunque un film modesto, un filmetto così da guardarsi una sera, non è quel gran film che dicono gli amanti del cinema d'azione, nemmeno di sfuggita, capisco che possa piacere perché comunque questo, ripeto, ha un'ironia e si prende talmente poco sul serio, o almeno così, almeno a me è sempre arrivato, come si prendesse un po' per il culo, gli stessi film appunto grossi, appunto con quelle scene esagerate, esagerate probabilmente per esagerare qualcosa che ormai era diventato totalmente fantascienza. E questo più che un film d'azione è un film di fantascienza, per come lui combatte, per come in realtà riesce a deflagrare tutto. Ma veramente siamo distanti dall'opera dove Schwarzenegger comunque era presente e dava il suo, e comunque erano grandi film come Terminator 1 o 2, o altri film come Conan o Atto di Forza, o quello che volete voi, trovate altri film, Last Action Hero qui, e Schwarzenegger fa quello che deve fare, cioè essere un corpo unico che va da diritto come in carro armato e spacca tutto quello e trova. Alla fin fine il film punta esclusivamente alle scene d'azione, a qualche scena classica, diciamo, dove è rimasto il classico Frasone anni Ottanta, ed è tutto lì. Ecco, un film che per il sottoscritto può scomparire dalla faccia della terra, sia chiaro, se nessuno l'aveva mai fatto, a me me ne fregava meno di un cazzo, che ha tantissimi amminatori, ripeto, è un cult sicuro, questo non glielo aveva nessuno, ma è anche un film modesto, insomma, di quelli che si guardano, si dimentiano e che sono diventati cult, proprio perché inseriti in quell'epoca. Il link è qua sotto, guardate sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il link per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram, per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia, e ripeto, questo commando, se amate Cina Muscolari anni Ottanta, sarà un grande film per voi, se come me Cina Muscolari anni Ottanta amate qualcosa, tipo Predator, che però si mescola qualcosa di interessante anche lì in grande Schwarzenegger, qui non si può dire né grande Schwarzenegger né grande film, si può dire solo divertitevi con le scene d'azione, lasciate perdere tutto il resto, perché veramente è scritto senza alcuna cognizione di causa.